Gentili telespettatori, buona giornata. Si scoprono i dettagli della più grande truffa ai danni dello Stato. Superbonus, ma parliamo di tutto quello che è l'intorno. Bonus facciate, ecobonus, bonus locazioni, bonus bottega, il sisma bonus, superbonus. Tutti questi, voluti nel 2020, hanno fatto scoppiare il putiferio. Perché Draghi dice chiaramente che chi più tuona ha scritto la legge. Cioè sta parlando dei 5 stelle. Anche Daniele Franco, il ministro dell'economia, parla della più grande frode allo Stato. Truffa. E Mario Draghi parla proprio dicendo che ci sono... Si è fatta questa legge, ma si è voluto pochissimi controlli, quasi nulli. Ovviamente tutto il resto l'hanno fatto i truffatori. Che con una legge fatta in questo mosno, in maniera così superficialotta, hanno trovato campo libero. Il premier dice che alcuni di loro sono quelli che hanno scritto questa legge, dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Il fatto è che si è voluto costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli. Come? I 5 stelle che non volevano fare nessuna opera pubblica perché c'era il pericolo di infiltrazioni dappertutto della criminalità, poi fanno una legge di questo tipo e prevedono pochissimi controlli. Daniele Franco, il ministro dell'economia, dice che è una truffa tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto. Ma i 5 stelle si diventano furiosi. Due, tre miliardi non è possibile. Sono praticamente bugie, grande bugie. Chi dice che ci siano questi miliardi di frodi al super bonus, dice il falso. Andiamo a vedere realmente come si articolava questa frode. Come vi dicevo, abbiamo frodi al super bonus, al bonus facciate, all'eco bonus, alle ristrutturazioni, al sistema bonus in totale. Si superano i 4 miliardi, si va verso i 4 miliardi e mezzo. Il caso più eclatante è quello di un 37enne, ospite di una comunità. Non ha un lavoro, non ha alcun bene intestato, non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. Eppure nel 2021 ha aperto una partita IVA come procacciatore d'affari e ha tentato di cedere a un intermediario finanziario oltre 400 mila euro di crediti fittizi, poi venduti a una società di costruzioni. I soldi vengono incassati e trasferiti su un conto corrente sloveno. Cessione del credito è questa la formula magica che ha consentito alle organizzazioni criminali e ai loro boss, ma anche a delinquenti comuni, colletti bianchi, commercialisti e avvocati, di far sparire finora dalle casse dello Stato 4 miliardi e 400 milioni di euro. E potrebbe non essere finita perché al 31 di dicembre, come conferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, le cessioni comunicate attraverso la piattaforma telematica sono state pari a 4,8 milioni per un controvalore di 38,4 miliardi di euro. Il sistema ha sfruttato la norma del decreto rilanciato nel 2020, che non ha posto alcun limite alla possibilità di cedere i bonus edilizi. E così è bastato falsificare le pratiche, oppure sfruttare prestanome, come appunto quello che vi raccontavo prima, per ottenere le somme rivolgendosi a poste italiane e a svariati istituti di credito. La procedura era sin troppo semplice, come conferma il depliant di poste italiane citate due giorni fa dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che nelle istruzioni sottolinea, la procedura è semplice e immediata, non è necessario fornire alcuna documentazione a supporto della richiesta. Effettuata la richiesta di cessione del credito a poste italiane affinché questa vada a buon fine, è necessario comunicarlo ad Agenzia delle Entrate. In caso di esito positivo, il prezzo della cessione verrà accreditato direttamente sul tuo conto corrente bancoposta. Detto fatto, nessun controllo preventivo è stato effettuato e migliaia di persone hanno ottenuto l'accredito. La Guardia di Finanza resta i componenti di un'organizzazione che, partendo da Rimini, si è mossa in tutta Italia grazie alla falsificazione dei vari bonus edilizi, affrodato quasi 300 milioni di euro. Creavano false società, fingevano di effettuare lavori e invece si limitavano a passare all'incasso sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, accedendo a cassetti fiscali. Hanno acquistato lingotti d'oro e criptovalute. Hanno spostato soldi a Cipro, Malta e Madeira. Le conversazioni intercettate per ordine dei magistrati hanno svelato il sistema utilizzato. I cash dog hanno consentito di trovare contanti e gioielli occultati in botole e intercapedini. Pensate un po'. Lo Stato italiano è pazzesco, esultano gli indagati, mentre si accordano sui bonus da prendere. E poi l'imprenditore chiarisce ai complici. Ne ho già 16 su due cassetti. Questi nostri non dipendono da nessuno, sono i miei. Non devo chiedere il favore a nessuno di venderli, di accreditare, di fare. Li ho generati, poi ti spiego come ho fatto. Come abbiamo fatto con il commercialista. Sono stato quattro mesi dietro e ce l'ho fatta. E ancora bisogna stare attenti, bisogna avere persone fidate, persone anziane. Prestanome, che in pochi mesi hanno consentito alla banda di comprare ristoranti, appartamenti, quote di altre società. L'annuncio poi su Facebook del finto consorzio, truffa da 100 milioni. Una ditta che offriva prezzi vantaggiosi e procedure semplificate per ristrutturare palazzi e villine. Bene, ce n'è poi il bracciante con 80 milioni di euro in provincia di Foggia. C'è un paese dove tutti i residenti sono riusciti a incassare il credito. Stessa fortuna è toccata a svariati gruppi familiari residenti a Roma. È stata un'inchiesta avviata dai magistrati della capitale, condotta con i colleghi pugliesi, a far scoprire il meccanismo messo in piedi grazie alla creazione di decine di finte aziende. Il dossier della finanza svela il sistema. Individuate due società, gestite dalle medesime persone che attraverso un meccanismo circolare di fatture false e comunicazioni di cessione crediti hanno generato operazioni per centinaia di milioni di euro. Sostanzialmente le due società si sono fatturate a vicenda circa 500 milioni di euro ciascuna, in pochi mesi, per anticipi lavori mai effettuati, mai realizzati. Queste operazioni hanno generato indebiti, crediti d'imposta, poi monetizzati presso intermediari finanziari e soggetti grandi, contribuenti. Beh, diciamo che complimenti ai nostri politici per caso. Truffe sul reddito di cittadinanza, truffe sul super bonus, grazie grillini. La mancanza di conoscenza delle cose provoca dei danni. I grillini al governo hanno provocato danni per miliardi di euro. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.